iniziamo un altro viaggio sonoro con lorenzo speed con il disco dei miei amici mario colucci e massimo giancola si chiama gemma di rosa nel deserto saluto gli amici di monopoli Bari ciao ragazzi Puglia protagonista esplorando un po' la realtà ma lontano appare una città per cercare il mio essere faccio un viaggio in quale verità tra misteri archeologici se la storia è passata qua ritornando in questi luoghi riscopro che questo non è solo un miraggio inaspettato attraversando il Medio Oriente che appare il sole all'improvviso Gemma di rosa nel deserto sbocciata dietro quella dunna che si profuma qui nel vento che brilla come dei diamanti qui nel bel mezzo del deserto e mi fermo in questa città la ricchezza e la povertà tra le spezie di mercanti gli occhi come di smeraldi delle donne di questa città la bellezza un po' nascosta sta ricoperta sotto il burca e noto che questo non è solo un miraggio inaspettato attraversando il Medio Oriente che appare il sole all'improvviso Gemma di rosa nel deserto sbocciata dietro quella dunna che si profuma qui nel vento che sbrilla come dei diamanti qui nel bel mezzo del deserto continuando tra le vie dei bambini lì che giocano aiutando i loro papà che lavorano che vendono souvenir nei bazar anche a volte per le strade tra la folla ai turisti che si profuma qui nel vento che non è solo un miraggio inaspettato attraversando il Medio Oriente che appare il sole all'improvviso Gemma di rosa nel deserto sbocciata dietro quella dunna che si profuma qui nel vento che sbrilla come dei diamanti qui nel bel mezzo del deserto in questo mondo between light and darkness un'infinito modo di possibilità ha venuto questo è il momento per una nuova esperienza venite con noi se avete la bravura per affrontare i vostri pezzi in questa area in questo mondo e dare un modo libero al presente attenzione alla magia della musica facciamo una magia e presenti anche noi con il biglietto in mano per salire a burdo in viaggio con te il tuo sound ciao Big Lorenzo Spindo buona trasmissione a te a tutti gli amici in ascolto grazie Simon non occorre il biglietto qui si viaggia tutti insieme gratis basta chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare dalla musica e lasciarsi trasportare dalla musica grazie a tutti per la sua Grazie a tutti Grazie a tutti Spero che tocchino anche i vostri cuori E vi invito a partecipare via Whatsapp e Telegram al 349-7267-647 sia via Whatsapp che via Telegram Vediamo di fare un viaggio allora intorno al mondo con le sonorità che arrivano da varie zone da varie regioni, da vari territori del mondo per immergerci in questo appunto viaggio sonoro Dorenzo Speed stai trasmettendo dei brani meravigliosi ed emozionanti grazie grazie a te Anna Maria che contraccambia i saluti di Silvia e saluta tutti gli amici in ascolto grazie Anna Maria Dosson di Casier Treviso c'è andiamo allora con un viaggio sonoro spirituale connettiamoci tutti a tempo di musica grazie a te grazie a te timman salutiamo anche Agostino di Rosolina Rosolina provincia di Rovigo presente gli amici Rodigini ciao Agostino un saluto anche a tua moglie Tiziana benvenuti buon viaggio sonoro sonooro oh 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.